Ciao a tutti, mi chiamo Anna e ho 19 anni. Sono arrivata in Europa da sola dalla Nigeria quando avevo 17 anni. Oggi vorrei parlare delle esperienze delle ragazze che come me viaggiano verso l'Europa. Negli ultimi anni, il numero delle minori che fuggono dal loro paese di origine e viaggiano attraverso rotte migratorie estremamente pericolose, senza la protezione di genitori o di altri adulti di riferimento è cresciuto. Tra il 2014 e il 2019, più di 627.000 ragazze hanno chiesto asilo in Europa. Tra di loro, più di 27.000 erano non accompagnate. Sono molte inoltre con loro che non sono rappresentate nelle statistiche ufficiali. Le minori non accompagnate rappresentano un gruppo non omogeneo. Alcune viaggiano con documenti farsi o dichiarano di essere più grandi. Altre, poi essendo sole, viaggiano con gruppi di adulti con cui non hanno relazioni di parentela. Alcune sono incinta o viaggiano con conugi, figli o famiglie allagate. Molte sono sopravvissute alla tratta. Tutto ciò rende complessa la loro identificazione. L'identificazione in questo contesto è il processo finalizzato a stabilire se una persona abbia meno di 18 anni e quali minori sono stati separati dalla loro famiglia o da altri adulti di riferimento. Ecco 10 segnali che possono aiutare a identificare se una ragazza è una minore non accompagnata. Se vedi una ragazza che sta viaggiando da sola o se una ragazza non ha documenti di viaggio o di identità validi o ha documenti farsi, potrebbe essere non accompagnata. Se una ragazza dichiara di avere più di 18 anni ma sembra più giovane e non è in grado di fornire documenti che dimostrino la sua età, potrebbe essere non accompagnata. Quando ragionevole, deve essere avviata la procedura di accettamento dell'età. Se le sue risposte alle tue domande sembrano ben preparate e lei sembra vaga nel raccontare del suo viaggio e della sua situazione personale, potrebbe essere non accompagnata. Se una minore è sposata e viaggia solo con i conuge, deve essere considerata non accompagnata. Questo vale anche se è incinta o ha fili. Come sempre, la valutazione del migliore interesse deve essere effettuata caso per caso. Se una ragazza viaggia con un gruppo di adulti e la loro età non corrisponde al profilo che potresti aspettati, o se viaggia con un uomo più anziano o uno zio, potrebbe essere non accompagnata. Se le sue caratteristiche fisiche non assomigliano a quelle dei suoi compagni di viaggio, o se non parla la loro stessa lingua o dialetto, allora potrebbero non essere la sua famiglia. Un mediatore linguistico-culturale poi forniti ulteriore supporto. Se una ragazza sembra trascurata rispetto agli altri minori che viaggiano nel medesimo nucleo familiare o gruppo, potrebbe essere non accompagnata. Se appare tubata, si rifiuta di parlare o cerca di mantenere le distanze, potrebbe essere non accompagnata. Per tutti i minori che viaggiano con qualcuno diverso dai loro genitori, è fondamentale che i loro legami siano verificati e valutati, al fine di identificare potenziali rischi. L'obiettivo dell'identificazione è quello di garantire che i minori e le minori non accompagnate siano assicuri da pericoli e ricevano cure e assistenza adeguate, in altezza del ricongiugimento con la loro famiglia o di soluzioni alternative a lungo termine. In qualità di operatori, autorità di frontiera, personale delle strutture di accoglienza, potete fare in modo per garantire che ogni minore, rifugiato, emigrante, bambino o bambina, ragazza o ragazzo, sia sicuro. L'identificazione può infatti avvenire all'arrivo, ma anche successivamente grazie ai servizi o a altri meccanismi basati sulla comunità. Se pensi che qualcuno possa essere una o un minore non accompagnato, contatta le autorità e le organizzazioni che possono fornire ulteriore supporto. Grazie a tutti.